Una donna dinamica, coraggiosa, profetica che ha allargato gli orizzonti dell'apostolato cristiano alle periferie della Chiesa e il ritratto tratteggiato dal Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, su Elisa Miceli, fondatrice delle Suore Catechiste Rurali del Sacro Cuore, durante la cerimonia di venerabilità che si è tenuta nella Cattedrale di Cosenza. Il postulatore della causa di canonizzazione di Suore Elisa Miceli, Don Enzo Gabrielli, ha dato lettura del decreto di venerabilità firmato il 16 luglio 2015 da Papa Francesco, ricordando lo spirito di fede della Suora che si nutriva di preghiera, partecipazione alla Messa, devozione al Sacro Cuore. Tra l'altro la fondazione delle Suore Catechiste Rurali era venuta proprio ai piedi del tabernacolo. Una spiritualità fatta di carità e di dizione, il suo pensiero, così la ricordano i fedeli, era sempre rivolta agli altri e quando qualcuno andava a farle visita non le faceva mai andare via a mani vuote. Suora Elisa è diventata per i fedeli uno straordinario modello di spiritualità, un autentico tesoro per la Chiesa.